Per celebrare bene il Natale, dobbiamo cercare Gesù nei luoghi dello stupore, l'altro, la storia e la Chiesa. L'ho detto Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelo, sericitata con migliaia di pellegrini raccolti in piazza San Pietro. Prendendo spunto dallo stupore della cugina Elisabetta per la visita di Maria, che portava in grembo Gesù, raccontato dall'Evangelista Luca, il Papa ha spiegato che l'altro è il primo luogo dello stupore nella vita quotidiana, perché in lui riconosciamo un fratello con impresse le sembianze del Figlio di Dio. Soprattutto quando è il volto del povero, perché da povero Dio è entrato nel mondo e dai poveri prima di tutto si è lasciato avvicinare. Il secondo è la storia, che ci sembra determinata dall'economia di mercato e dominata dai potenti di turno, e invece il Dio del Natale scombina le carte e rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Infine c'è la Chiesa, che va guardata con stupore perché non è solo un'istituzione religiosa, ma soprattutto una madre che pur tra macchie e rughe è la sposa amata e purificata da Cristo. Una Chiesa per la quale il Signore Gesù non sarà mai un possesso da difendere gelosamente. Quello che fanno questo sono sbagliati. Ma sempre il Signore Gesù sarà colui che le viene incontro e che essa sa attendere con fiducia e gioia, dando voce alla speranza del mondo. La Chiesa che chiama il Signore, vieni Signore Gesù. La Chiesa Madre che sempre ha le porte spalancate e le braccia aperte per accogliere tutti. Anzi la Chiesa Madre che esce dalle proprie porte per cercare con sorrisso dei Madre tutti lontani e portarli alla misericordia di Dio. Questo è lo stupore del Natale. Dopo la preghiera dell'Angelus il Papa ha salutato i bambini di Roma venuti in piazza per la tradizionale benedizione dei bambinelli del presepe. Quando pregherete davanti al presepe ha detto ricordatevi anche di me come io mi ricordo di voi. Grazie a tutti.